Se riesce a passare, siamo in votazione. Ha votato, benissimo. Allora, nessuno deve ancora votare e dichiaro di usare la votazione. Favorevoli 322, contrari 15, la Camera approva. Allora, colleghi, sono stati presentati adesso dei subemendamenti al 10.100, quindi così da poter dare magari i pareri tutti insieme all'articolo 10, io direi di sospendere per dieci minuti per consentire al Comitato dei Nove di riunirsi. Presidente Ferranti, prego. Presidente, i dieci minuti forse sono non realistici, quindi se possiamo fare almeno mezz'ora. Almeno mezz'ora? Cioè no, almeno mezz'ora. Va bene, va bene, facciamo mezz'ora, quindi alle 4.45. Va bene. La seduta è sospesa. Grazie. 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 Grazie.